Musica Marghera stava accompagnando il marito disabile a casa quando una coppia di anziani è stata aggredita da tre giovani della zona Ci sarà un funerale unico per i tre amici che hanno perso la vita venerdì notte finendo con l'auto nel canale a San Stino si attendono mille persone a Torre di Mosca La pedana di legno sul terraglio, mestre che conduce i pedoni a Villa Salus non è sicura la segnalazione arriva da una cittadina Incendio in una palazzina di spinea per motivi sconosciuti uno degli appartamenti è stato invaso dalle fiamme provocando il fuggi-fuggi dei residenti A otto mesi dal tornado della scorsa estate non si ferma la solidarietà di moltissimi cittadini alle famiglie della Riviera del Brenta La stagione estiva è alle porte, si ripropone il problema dell'erosione le spiagge venete non sono mai state così male, milioni di euro per il rifascimento non bastano Calcio finisce con un pareggio, l'atteso derby tra mestre e Venezia disputatosi domenica, tutto esaurito allo stadio Buona serata, benvenuto a tutti i telespettatori di TG, Venezia Mestre in apertura La cronaca, un'anziana stava accompagnando il marito disabile erano scesi dall'autobus quando sono stati aggrediti a Marghera da tre ragazzi della zona Senza pietà, hanno aggredito una donna che stava riaccompagnando a casa il marito disabile costretto in sedia a rotelle Violenta rapina ai danni di una coppia di anziani domenica sera in via correnti a Marghera Ad aggredire i due sono stati tre giovani probabilmente della zona I rapinatori hanno buttato a terra la donna strappandole la borsetta È stato un colpo studiato Li hanno osservati scendere dal tram e poi dirigersi verso la propria abitazione Due dei tre aggressori sono poi entrati in azione Il terzo ha fatto il palo davanti alla casa delle vittime Una volta arrivati davanti al cancello degli anziani La coppia di ragazzi si è offerta di aiutare la donna a portare in casa il marito Al suo rifiuto l'hanno aggredita e le hanno strappato la borsetta con soldi, effetti personali e il cellulare Sul posto sono arrivate le volanti della polizia Si stanno cercando i tre ragazzi E si svolgeranno domani i funerali dei tre ragazzi Che nella notte tra venerdì e sabato hanno perso la vita a Sanstino di Livenza Finendo con l'auto nel canale Il magistrato ha dato il nulla osta Sarà dunque celebrato un funerale unico per Riccardo, Andrea e Davide Che hanno condiviso insieme tanti momenti di divertimento e non È questa la volontà delle famiglie unite in questo tragico momento L'intera comunità di Torre di Monsto sconvolta per l'accaduto potrà salutare i suoi ragazzi martedì alle 14.30 nella chiesa di San Martino Ad ufficiare il rito sarà il parroco Don Gabriele Vogliamo capire cosa sia successo? Personalmente ne avrei piacere anche perché ha un grosso rimorso verso le altre famiglie Gli ho chiesto scusa tantissime volte anche se da parte degli altri genitori non ho ricevuto finora alcuna pressione È distrutto dal dolore Walter Antoniazzi, il papà di Davide, il 21enne, che nella notte tra venerdì e sabato guidava l'auto Finita a capovolta in canale, a Sanstino di Livenza, in località Sette Sorelle Quella strada Davide la conosceva bene, ma quella sera c'era una nebbia fitta, continua il papà Bisogna che qualcuno pensi di intervenire, cosa dobbiamo aspettare? Che vi muoia qualcuno dei nostri politici perché si faccia qualcosa, aggiunge, sopraffatto dal dolore Intanto gli amici dei tre ragazzi continuano a riempire di messaggi le loro bacheche social Tra queste spicca una lunga lettera della fidanzata di Riccardo Rado È così strano, si legge in parte, non aver ancora ricevuto un tuo messaggio Il tuo solito buongiorno amore Eri contagioso con la tua voglia di fare, il tuo sorriso Sarà dura senza i tuoi occhi Sento la tua mancanza che mi logora piano piano E mi rendo conto di quanto di fronte alla morte io sia impotente Non doveva andare così, si legge ancora Ieri dovevi essere da me e non al posto sbagliato nel momento sbagliato Non ho mai promesso nulla a nessuno perché mi conosci E sai che se non posso mantenere non prometto Ma questa volta faccio uno strappo alla regola E ti prometto che sarai sempre il mio ragazzo, il mio amore Continuo per te, per noi, per la nostra storia Da sola conclude, ma con la convinzione che un giorno ti rivedrò bello più che mai Per l'ultima volta ti amo Troppe le morti sulle strade del veneziano solo nelle ultime settimane È proprio questo il quesito di Tigilli in aperta che mi hanno pensato di proporvi Questa settimana per chiedere la vostra opinione Sicurezza stradale, si può fare di più? Potete dirci cosa ne pensate attraverso un sms al 340-3218-770 Un'email a venezia-chiocciola-rete-veneta.it Un fax o una telefonata ai numeri che vedete scritti in sovraimpressione I vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali E a proposito di sicurezza, la segnalazione di una cittadina sulla passerella lungo il Terraglio Quella che conduce a Villa Salus Per chi si muove con i mezzi pubblici o a piedi Raggiungere Villa Salus potrebbe essere problematico La segnalazione arriva da una cittadina che per necessità si reca frequentemente all'ospedale col bus Ed è quindi costretta ad utilizzare la pedana di legno Che spesso però crea notevoli difficoltà ai pedoni Soprattutto se anziani Il guaio più grosso è quando è inverno o quando piove Perché il suolo di legno in pratica crea problemi di camminamento Perché non ha nessun antiscivolo E di conseguenza si fa fatica a camminare perché si scivola Ci sono anche gli alberi in mezzo E in più quando c'è il periodo di pioggia Se si vuole scendere dal marciapiede di legno Ci sono le pozzanghere che impediscono di camminare anche sull'asfalto stradale Che non si dovrebbe usare Ma che comunque uno pur di non ammazzarsi sulla pedana di legno È disposto anche a scendere in strada Dalla parte opposta ci sarebbe un passaggio Ma a quel punto chi si trova dal lato di Villa Salus Dovrebbe attraversare una strada molto trafficata Non si pensa di attraversare dall'altra parte Dove c'è una pista ciclabile con la pista pedonale Al limite da fare la camminata Rimane sul lato di discesa dell'autobus La pedana in legno inoltre ha poca stabilità È molto ballerino È molto pericoloso secondo me Anche perché se va a cadere proprio sul marciapiede Va a finire che o viene scavalcato da qualcuno Che magari sta camminando a fianco Oppure va a finire Va in mezzo alla strada Con il rischio di essere arrotato dalle auto Che corrono in maniera abbastanza sostenuta La richiesta non è così impossibile da realizzare Perlomeno un antiscivolo fosse doveroso Doveroso essere messo Tutto qui Di vedere un attimo la sicurezza Di quello che è il camminamento pedonale Di questo pezzo di legno Che probabilmente avrà i suoi motivi di essere così Però chi frequenta l'ospedale Non ne ha la più palle di idea Scoperta nel pomeriggio In un'abitazione di via Volturno Ammestre il corpo di una persona Si tratta di una donna di mezza età Che a giudicare dallo stato di decomposizione del cadavere È deceduta da diversi giorni Nessuno però nel frattempo Si era reso conto di quanto accaduto Sul posto alle volanti della polizia I sanitari del 118 E anche la polizia scientifica Per i rilievi del caso Inizialmente gli agenti hanno cercato di stabilire Se ci fossero segni di intrusione O comunque degli elementi Che potessero far pensare All'ingresso di altre persone Ma al momento non li hanno trovati L'opzione poi più concreta Sarebbe stata proprio quella Che la morte sarebbe sopraggiunta Per cause naturali Forse anche per problemi di salute della donna A otto mesi dal tornato dell'estate scorsa Non si ferma la solidarietà Di moltissimi cittadini Verso le popolazioni della Rivera del Brenta Si è conclusa domenica In piazza San Marco La lunga marcia Che ha visto decine di persone Attraversare idealmente tutto il Veneto In un gesto d'amore per la propria terra Tra le ultime tappe del viaggio Iniziato il 6 marzo Dalle rive del lago di Garda La riviera del Brenta Segnata dal tornado Una ferita che non si è ancora rimarginata E che i partecipanti alla corsa Hanno voluto contribuire a curare Offrendo il loro aiuto A una delle famiglie più colpite Passendo sta tappa Abbiamo approfittato Per consegnare Il ricavato del cuore dei Veneti A questa famiglia Che deve rifarsi Praticamente l'abitazione I soldi vanno a mia sorella Che ha la casa distrutta E che adesso Spero che prima di agosto Con un po' di soldi Un po' di aiuti Che ci hanno tirato su Possiamo fare una veranda Possiamo fare delle persiane Un po' insomma Andiamo avanti La marcia ha poi ripreso Il suo cammino verso Venezia Per terminare di fronte Alla basilica di San Marco Con la consegna del gonfalone In patriarcato Dal Movimento 5 Stelle Appello al sindaco Brugnaro Per non perdere Uno dei luoghi storici Della terraferma veneziana Dopo i 20 milioni Già spesi per acquisire Il sistema dei forti austriaci Della terraferma Per il comune di Venezia Sarebbe facile chiudere il cerchio Ottenendo gratuitamente dal demanio Anche Forte Cosenz Tra Favaro ed Ese Lo sostiene Il consigliere a 5 Stelle Davide Scano Che ha presentato Un'interpellanza urgente Alla giunta comunale Nel tentativo di scongiurare Gli attuali piani Che vedono questo pezzo di storia Destinato a diventare Un deposito di materiali Per la protezione civile Funzione che potrebbe essere assolta Da qualsiasi altro stabile Meno di pregio Sostiene Scano Mentre il forte Sarebbe un bel posto Per i momenti di svago Delle famiglie Ci sono questi 9 eteri Che possono essere usati Anche per Come ritrovo La domenica Zona attrezzata Per Grigliate Picnic Insomma Appunto il ritrovo per famiglie Giovani La gente che fa footing Il bosco di Mestre Ipotizzano i grillini Potrebbe essere ampliato Di questi 9 ettari Del forte Che potrebbero diventare Un punto informativo Su quest'area naturalistica Dopo che All'inizio Degli anni 2000 Si è comprato Con 20 milioni di euro Tutta una serie di forti Tra cui Forte Marghera Forte Carpenedo Forte Tron Ora invece si rinuncia A Forte Cosenz Che ci potrebbe essere Dato gratuitamente E questo è veramente Demenziale Per le casse Esangui del comune Ma anche per L'interesse pubblico Di tutti i cittadini veneziani Attimi di panico A Spinea Per un incendio Divampato Nell'appartamento Di un'abitazione Questa ad altre brevi notizie Di cronaca Incendio nel primo pomeriggio Al quinto piano Di una palazzina In via Buonarrote A Spinea Per motivi ancora sconosciuti Uno degli appartamenti È stato invaso dalle fiamme La nuve di fumo È uscita dalle finestre aperte Provocando il fuggifuggi Dei residenti Quasi immediato L'arrivo dei vigili del fuoco Che hanno impiegato Pochi minuti Per domare il rogo Fortunatamente Ancora nelle sue fasi iniziali Sul posto Per precauzione Anche un'ambulanza Che una volta Verificata l'assenza Di persone coinvolte È rientrata vuota All'ospedale L'annunciata Videosorveglianza Nella zona di via Piave È costata cara Un giovane spacciatore Inquadrato Dalle telecamere Di via Monte San Michele Mentre recuperava 4 grammi di cocaina Dall'interno Di una campana gialla Della raccolta differenziata Alla scena Hanno assistito in diretta I poliziotti Della sala operativa Della questura Che hanno immediatamente Inviato una volante Sul posto Il ventenne nigeriano È stato denunciato Come ormai tradizione Il primo giorno Di primavera È dedicato in Italia Al ricordo Delle vittime Innocenti delle mafie Studenti in strada Anche a Venezia Dove decine di ragazzi Si sono ritrovati Alle 10 In campo Santa Margherita Per rispondere All'appello delle associazioni Libera e avviso pubblico Un lungo elenco Di quasi mille nomi Di vittime della mafia Dal 1893 al 2015 È stato letto pubblicamente A portare i saluti Del sindaco di Venezia La presidente Del consiglio comunale Ermelinda Damiano La stagione estiva È alle porte Ma le spiagge Del litorale veneziano Non stanno affatto bene La nostra costa È in deficit Di sedimenti Cioè Non abbiamo Sedimenti sufficienti A bilanciare La mancanza Di apporti Che strutturalmente Avviene dai fiumi Cioè i fiumi Non portano più Abbastanza sabbia Per conservare I nostri litorali La stagione estiva È alle porte Puntualmente Si ripropone L'annoso problema Dell'erosione Del litorale Le spiagge venete Non sono mai state Così male Abbiamo dimostrato In sostanza Una cosa che peraltro È sotto gli occhi Di tutti Che i nostri litorali Non sono nelle condizioni Di mantenersi In salute Se non apportando Dei sedimenti Quindi apportando Della sabbia Che non arriva Dai fiumi Ovviamente È possibile Anche una strategia Di difesa locale Per diminuire Questo trend Erosivo Però Da un punto di vista Globale A livello regionale Noi dobbiamo Sempre pensare A una possibilità Di interventi Con prelievo di sabbia Dalle zone di accumulo O da cave A largo Offshore Milioni di euro Spesi per il ripascimento Ormai non bastano Perché l'esigenza Di un intervento strutturale Diventa pressante Le operazioni tampone Salvano le stagioni Ma non stoppano l'emoragia Il ripascimento morbido Quello che tradizionalmente È stato fatto Nel corso degli ultimi anni Rimane centrale Per garantire La fruibilità Delle nostre spiagge Insieme con le strutture Della regione del Veneto Dovremmo cercare Di comprendere Come alcuni interventi Strutturali Possano ridurre L'impatto e la necessità Del ripascimento morbido Per iniziare concretamente A vedere delle soluzioni Che vanno a ridurre Quello che ogni anno Purtroppo Costa questo tipo Di protezione della costa Il problema sono I finanziamenti Attraverso Ad esempio Penso Il trattenimento Dei cani e dei magnali Ma soprattutto Su scala europea Con un grande progetto Che veda Le spiagge del Veneto Protette Da San Michele A Tagliamento A Porto Viro Preoccupazione Per la ginasta catanese Di 22 anni Dopo un errore Durante la finale Di specialità Al trofeo Di Jesolo Carlotta Ferlitto È caduta malamente Dopo un esercizio Alla trave Eseguito durante La finale Di specialità Ecco qui abbiamo visto Nelle immagini La giovane atleta Ha battuto la testa Sul materassino Dopo aver messo Un piede In fallo Dopo L'uscita Del doppio Carpio Subito È stata soccorsa Dai medici E dopodiché È stata portata All'ospedale Per tutti gli accertamenti Ma Fedder Ginnastica Rassicura Sul suo stato Di salute Passiamo ora Al calcio È finito In pareggio Il derby Che si è disputato Domenica Tra Venezia e Mestre Finisce con un pareggio Il derby Tra Mestre e Venezia Una bella partita Combattuta Con tante occasioni Da una parte E dall'altra Alla fine festeggiano Tutti Il Mestre Per un punto Contro la prima Della classe E il Venezia Che resta saldamente In testa Approfittando Dell'1 a 1 Del campo d'Arsego Sul campo Del Noale Cinque I punti di vantaggio Peretti portano La firma Di Fabiano Per il Venezia A cui risponde L'arancio nero Pettarin Nel primo tempo Nella ripresa Nuovo a lungo Dei veneziani Con Luciani Pareggio Mestrino Di Capogrosso Da segnalare L'espulsione Dell'allenatore Del Venezia Favarin Per un elite Con il vice allenatore Mestrino Ivan Galante Perché per loro Era la partita Del campionato Quindi Per noi Un po' tutte Sono ormai finali Adesso Da qua alla fine Perché comunque Mancano sei giornate Considerando comunque Il turno d'Irno Che era molto più Insidioso per noi Direi che comunque Ci possiamo ritenere soddisfatti I bravi Abbiamo avuto Il doppio vantaggio Forse con un pizzico D'attenzione in più Perché abbiamo preso i gol Su due corner Fondamentalmente Anche il secondo Era un calcio d'angolo Una palla poi rimessa dentro Però Sono cose che succedono Loro hanno fatto Una buona partita La preparavano da molto tempo Sapevamo che era dura Però insomma Per fortuna Anche il campo d'Arsa Va pareggiato Alla fine della partita Il mister del mestre Tiozzo Ha annunciato Che il prossimo anno Non siederà più Sulla panchina arancionera Società già informata Ha fatto sapere il coach E non ha ricevuto offerte Da altri club E vediamo ora Quale sarà il livello Della marea Domani a Venezia Previsione di martedì 22 marzo Alle 4.15 Un livello minimo Di 5 centimetri Alle 10.05 Uno massimo Di 65 Alle 16.10 Uno minimo Di meno 5 Però Inserata Alle 22.30 Ce ne sarà Uno massimo Di 90 centimetri Vi ricordo Questa sera Alle 21.05 L'appuntamento Con lo speciale Focus Con il governatore Luca Zaia Domani mattina Invece Non perdete L'appuntamento Con Sveglia Veneti L'ospite Del direttore Luigi Bacialli Sarà Roberto Ciambetti TG Venezia Mestre termina qui Io vi ringrazio Per essere stati In nostra compagnia Vi auguro una buona serata Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti